C'è un luogo unico al mondo dove ogni giorno il vento nasce al ritmo del sole attraversando valli e oliveti belli come giardini, ne accarezza le fronde e i frutti e racconta di antichi saperi tramandati di generazione in generazione e di una natura generosa e mite. La famiglia Turri ha qui le sue radici, in Italia, sulle fertili sponde del lago di Galla, radici antiche e forti, come l'ulivo, che qui si coltiva da sempre. E viene il tempo della raccolta. Con immutato amore, Turri molisce le olive migliori e ne ricava un olio extravergine di oliva, semplicemente unico al mondo. Il Gardadop Turri. Con la stessa passione, Turri sceglie e lavora nel proprio frantoio olive dei migliori oliveti italiani. Nascono così i grandi blend di olio extravergine di oliva 100% italiano. In ogni parte del mondo, con l'olio extravergine di oliva Turri, porti in tavola un raro e prezioso scrigno di sapori.